Oggi, zucchine in carpione. Le conoscete? Sono un piatto tipico della tradizione piemontese. Tagliate le zucchine a brichette, cioè a bastoncino, e fatele friggere in abbondante olio. Assorbite quello in eccesso con un tovagliolino. Preparate la bagna, le proporzioni di acquaceto possono variare a seconda dei vostri gusti. Lasciate macerare almeno per una notte. Gli sicotan carpino al brusque sono pronti per essere gustati. Dalla cucina del Chihuahua per oggi abbiamo finito. Auguro a tutti buon appetito!